La Regione Toscana propone di poter detrarre in dichiarazione dei redditi l'importo del contributo destinato ai consorsi di bonifica e replica così alle polemiche sollevate dalle forze di centrodestra in Consiglio regionale contro l'obbligo esteso a tutti di versare la somma per la manutenzione di argini e fiumi che hanno trovato sponda anche nel gruppo PD. Per il Presidente Enrico Rossi, quei 90 milioni di contributi versati ogni anno garantiscono invece il funzionamento dei consorsi, che contano 540 dipendenti e che sono stati ridotti da 26 a 6 dopo la riforma del 2012. Ogni anno noi facciamo un piano operativo degli interventi di investimento per la costruzione dei bacini, per la costruzione delle casse di esondazione, per gli interventi di consolidamento degli argini e poi ogni anno integrato con questo piano approviamo dei sei consorsi tutte le delibere attuative degli interventi manutentivi. La somma da pagare per il contributo di bonifica è calcolata in proporzione ai benefici stimati per ciascun cittadino. Quello che è il costo viene suddiviso attraverso il cosiddetto piano di classifica che altro non è che una specie di calcolatrice nella quale ci sono vari parametri di natura orografica, socio-economica, tecnica e che quindi vanno a stabilire quanto ogni singolo consorziato deve versare. Entro il 2017 il nuovo sistema dei consorsi di bonifica nato dalla riforma entrerà definitivamente a regime. Nel giro di due anni e la stima della regione i risultati in termini di benefici sul fronte della sicurezza dei fiumi e torrenti saranno tangibili.